Amiche e amici di Rossini TV, siamo di fronte all'ingresso di Palazzo Battiferri ad Urbino. Qua questa mattina, il attore, autore, comico e regista Fabio De Luigi terrà una conversazione con il professor Igor Pellicciari sul tema Il comico è un lavoro serio. Andiamo a conoscere naturalmente sia Fabio De Luigi che tutti i protagonisti di questa mattinata e facciamo seguire per tutti i telespettatori di Rossini TV questo appuntamento così importante organizzato dall'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo. Interessa sapere se si nasce comici o si diventa comici e quindi se il comico è un lavoro serio come in realtà è perché Fabio che conosco da una vita è principalmente un grande attore e poi la cosa anche che interessa secondo me da una prospettiva urbinate è la sua scelta di vivere a Sant'Arcangio di Romagna c'è un posto piccolo da cui lavorare quindi forse oggi la dimensione piccola ti permette di lavorare meglio che poi è anche il punto forte di Urbino dove gli studenti non sono delle matricole ma sono studenti e quindi penso che sia un abbinamento molto attuale in questi periodi. Io credo che ci si nasca fondamentalmente, cioè la comicità è difficile insegnarla sicuramente se hai la fortuna, perché per me è una fortuna di avere questo talento come ne esistono tanti altri come quello di saper cantare o di saper fare delle cose, poi con la consapevolezza di avere in mano una cosa preziosa cercare però di migliorarla, di lavorarla, di migliorarla insomma, quindi ci si nasce ma poi ci si deve lavorare su. Io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, non pensavo che avrei fatto il comico, che avrei fatto questo, cioè lo volevo fare come sogno ma però tutto serve, quindi il consiglio che darò è quello che dicono tutti che è quello di cercare di avere delle passioni, di rincorrerle e di essere curiosi, questo, che questo serve e qualunque cosa si faccia all'interno di un'università a volte si compiono studi che poi sembra abbiano poco a che fare con quello che poi farai ma non è così, perché servono a formarti anche come individuo e sono degli strumenti che ti possono portare a fare quello che vuoi fare. Diciamo questo evento insieme a quello di Fiorello della settimana prossima, sono due iniziative rivolte agli studenti per far capire che pensare al futuro, al proprio futuro professionale non vale solo nei contesti più tradizionali ma anche nello spettacolo, nella creatività, quindi abbiamo avuto questa idea e questa possibilità di contattare due personaggi ovviamente molto popolari e speriamo che questo possa far capire ai nostri giovani che è importante appunto, che i sogni sono importanti perché immagino che entrambi sia De Luigi che Fiorello quando avevano l'età dei nostri studenti e delle nostre studentesse ovviamente avevano dei sogni e che sono riusciti a realizzare, quindi vogliamo capire anche che cosa, insomma qual è il percorso che hanno seguito per raggiungere questo risultato.